Ciao ragazzi, oggi è una giornata un po' così, insomma, come posso dire, l'albero del giorno dopo, un po' come un po' di chieffier che aiuta, insomma, no, la flora batterica e tutto quanto. Diciamo che è una giornata un po' di chiusura, no, di chiusura di questa stagione in cui si fanno, si tirano le somme e poi a un certo punto cioè, rimane un po' quell'amaro in bocca, ragazzi, ci avevamo creduto un po' tutti sapevamo un po' sotto sotto prima della partita di andata, no, con l'Avellino tutti noi sapevamo un po' sotto sotto che questo era il vero primo banco di prova è il vero e c'era un grosso rischio di uscire contro l'Avellino anche se non fosse anche solamente per la classifica, no, il vantaggio che l'Avellino aveva in classifica infatti poi si è visto il risultato determinante il vantaggio della classifica in quanto l'Avellino classificato terzo, ragazzi, l'Avellino sommariamente è più forte del Palermo diciamo la verità, non lo ha dimostrato tantissimo ieri, devo dire, mi aspettavo lo dimostrarsi appena di più però c'era dire che a un certo punto è entrata in gioco anche un po' la paura anche l'Avellino si è un po' chiuso a un certo punto perché anche il pareggio rischiava di buttarli fuori quindi diciamo che nel complesso il Palermo ne esce a testa alta però mi dispiace molto la prima mezz'ora di ieri sera la prima mezz'ora è stata un po' molle del Palermo anche se la prima occasione l'abbiamo avuta noi con Canutè però l'atteggiamento del Palermo, a differenza di quello dell'Avellino che erano incazzati a palla anche se mi aspettavo fossero ancora più incazzati invece tutto sommato è stata una partita corretta diciamo che la prima mezz'ora del Palermo è stata un po' molle ecco il Palermo in generale non è mai stato questo gran leone diciamo è una squadra che attacca se c'è da attaccare ma quando c'è da difendere fa fatica l'ha sempre fatto questa fatica poi ieri c'è stato quel duo Lancini-Marconi che inspiegabilmente ha lasciato andare Maniero, Libero e da solo verso la porta poi vabbè ci sono stati anche i due interventi a vuoto tra Cardi e Marongo però diciamo che lasciare andare un giocatore così non è il massimo però ne abbiamo già discusso ieri insomma ne abbiamo già le palle piene di questa cosa io quello che voglio dire oggi a parte la partita di ieri perché poi abbiamo avuto eh che cazzo che è l'autodromo allora un po' di chiesa quello che dico io alla fine no è stata una partita in cui il Palermo ha giocato anche tutto sommato non male abbiamo avuto delle occasioni al secondo tempo con Canutè con Valente insomma ci sono state delle occasioni per poterla mettere dentro però purtroppo non ce l'abbiamo fatta però dico tutto sommato adesso non dobbiamo stare lì a dare le colpe quello che voglio dire io è una sola cosa è sperare che l'anno prossimo ci sia appunto un progetto sulla base di questa squadra qui e con questo allenatore qua perché a me il Palermo di Filippi piace è un Palermo migliorabile un Palermo che si può rinforzare con degli acquisti mirati però è un Palermo che di base non va buttato via perché il lavoro che ci siamo conquistati è un nostro patrimonio questo Palermo è un nostro patrimonio non lo dobbiamo rovinare perché sulla base di questo puttana di quella troia sulla base di questo Palermo possiamo finalmente costruire il futuro e la possibilità di giocarci la promozione già l'anno prossimo ma anche negli anni futuri quindi non bisogna smontare tutto ora certo ci sono le vicende societarie che dovranno un po' chiarire quello che sarà il quadro di questo Palermo se ci saranno nuovi soci se ci saranno nuovi capitali se ci sarà insomma poi entrerà in gioco anche il centro sportivo che finalmente pian piano prenderà vita insomma tutto quanto c'è tutto da delineare insomma questo nuovo Palermo però io non so Filippi a me piace poi è palermitano è bravo cazzo cioè nel senso perché dobbiamo andare a rovinare un giocattolo che funziona basta migliorarlo secondo me migliorare questo giocattolo l'abbiamo già detto tante volte quindi un po' con la varie in bocca ci abbiamo creduto lasciamo i playoff alla nostra prima annata da neopromossi e se proprio siamo giù di morale pensiamo a quei poveretti del Bari per esempio che sono già due anni che con i soldi di De Laurenti non riescono ad andare in Serie B anzi quest'anno hanno avuto anche un'involuzione rispetto all'anno passato perché l'anno passato si sono giocati i playoff da secondi credo quest'anno addirittura erano quinti se non sbaglio quindi no quarti no quarti scusate quindi insomma cioè nel senso c'è stato addirittura un peggioramento allora loro che dovrebbero risperarsi quindi insomma ragazzi grazie grazie a tutti il nostro staff i nostri giocatori il nostro allenatore soprattutto grazie al nostro presidente perché insomma tutto sommato nella merda in cui per ora sta navigando il calcio noi abbiamo una squadra sana sana che ha fatto un buon campionato senza debiti e con una prospettiva di futuro rosa 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 soprattutto rosa ciao ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi siamo quasi vicini ai mille iscritti mille iscritti appena arrivano i mille iscritti mi mangio un kebab con la nutella no scherzo che è fino ciao ragazzi grazie a tutti